salve a tutti gli amici di tech different siamo qui con l'unboxing di moto x style che motorola gentilmente ci ha inviato per la recensione bene procediamo con l'apertura della confezione che si apre diversamente dalle altre troviamo subito il dispositivo eccolo qui con la fotocamera anteriore il flash led anteriore abbiamo anche le casse audio generiche in uscita sulla parte anteriore sulla parte destra troviamo il bilanciere del volume tasto di accensione spegnimento sulla parte sinistra nulla sulla parte in basso abbiamo l'ingresso micro usb per il ricarico pure per collegare ad un pc qui sopra invece abbiamo l'ingresso a 3,5 mm per il jack audio per le cuffie o auricolari e l'ingresso per la nano sim lo slot per la nano sim nella parte posteriore abbiamo una cover come possiamo vedere zigrinata diciamo e poi abbiamo la fotocamera e il doppio flash led andiamo a continuare il nostro unboxing qui troviamo un bumper compreso qui abbiamo la presa da muro elettrica per ricaricarlo con l'ingresso eccolo qui maschio micro usb qui vediamo di toglierlo eccolo qua abbiamo tutta la manualistica moto x style diverti di istruzione a kickstart web che c'è anche in italiano ovviamente e poi qui abbiamo la classica graffetta per aprire il vano della nano sim dove va inserita la nano sim bene direi che per questo unboxing è tutto vi rimandiamo ovviamente al nostro canale youtube dove vi proporremo il prima possibile le nostre i nostri test video le nostre prove che faremo e anche come accedere in recovery mode qualora vi servisse ringraziamo ancora una volta motorola per averci inviato questo dispositivo motorola moto x style i test ora hanno inizio su techdifferent.it grazie per la contesa attenzione un saluto a tutti e alla prossima ciao